Sì, sicuramente noi stavamo facendo bene e loro sono riusciti a fare un gol in un momento che non era il loro momento migliore, però è andata così il calcio anche così. Sì, sì, perché abbiamo fatto una grande partita, secondo me non era una squadra facile per loro, ci siamo messi bene, abbiamo fatto il nostro controllo, è andata bene, diciamo. Sì, sicuramente questa squadra si è formata agli avi, ancora non ci conosciamo tutti bene e bene, quindi secondo me piano piano ci integriremo ancora di più e possiamo fare una gara molto meglio.